stavo navigando e ho trovato questa questa su facebook e ho trovato questa notizia dell'ultimi dell'ultima ora sport mediaset attendo che l'algoritmo sblocchi sblocchi questa diretta aspetta che l'algoritmo dica si robbi c6 sport mediaset guardate perché così non sembro sempre io è quello che vuol tirare fuori questo avere questo dubbio guardate sport mediaset dopo giornalista americano è morto anche il foto reporter di alcas tv khalid al-mislan la morte sarebbe avvenuta improvvisamente sabato mentre copriva la coppa del mondo fifa 2022 in quattro cercheremo di capire di più comunque un altro giovane vedete che non è una persona anziana che muore improvvisamente secondo giornalista che muore per malore improvviso in questo caso non lo dico io la notizia è pubblicata da mediaset da mediaset per la precisione 29 minuti fa sport mediaset dopo giornalista americano è morto anche foto reporter improvvisamente malore o morte improvvisa cercheremo di capire di più se ne staranno rendendo conto che c'è qualcosa di strano capiremo di più sulla morte di questo giornalista ma è secondo in due giorni il secondo per morte improvviso voglio vogliamo volete la verità vogliamo saperne di più forse i media mondiali non possono non riescono più a far finta di nulla forse i media il mainstream non può più nascondere queste notizie perché sono troppo evidenti perché sono troppo evidenti per tutti che il dubbio torni ad essere lecito commentate condividete se avete notizie su questa su questa ultima news che vi ho appena comunicato mettetelo nei commenti commentate inviate messaggi come al solito ciao a tutti e buona domenica a più tardi